Grande vittoria a Firenze contro la Fiorentina, una vittoria veramente vitale, abbiamo sofferto tanto, stiamo passati in vantaggio con King Zlatan, ma poi la Fiorentina si è rimessa in gioco e con Pulgar, con Ribery ha ribaltato tutto e siamo stati nella merda fino al collo. Ma poi ci hanno pensato Brahim Diaz e Cialanoglu con l'aiuto di King Zlatan a rimettere le cose in forma per noi, una vittoria importantissima, tre punti vitali per la lotta per il quarto posto su un campo difficile, una vittoria importantissima. Teo Hernandez in difficoltà, non ha brillato, ce l'avevo al fantacalcio e non ha brillato, ma si è fatto vedere ogni tanto in attacco, benissimo la fase offensiva, bisogna un po' rivedere la fase difensiva, perché abbiamo sofferto un po' troppo in alcuni frangenti e si può dire Tomori, Tomori veramente mi dà una sicurezza e una voglia di stare tranquilli, uno dei pochi che mi dà questa sensazione, Tomori. Con Kier era bella fase difensiva, ma oggi in difesa abbiamo faticato, abbiamo fatto molta fatica in difesa, non sarà sempre così facile, bisognerà correggere gli errori che abbiamo fatto oggi. C'era a dire che un gol l'abbiamo preso sul calcio di punizione, dove anche Donnarumma poteva fare qualcosa in più, ma è stata una vittoria veramente importante, una vittoria importantissima. E che si può dire di più, io non lo so, non so che dire di più, la partita non sono riuscito a guardarmela tutta, ma sono veramente emozionato per la vittoria, sono emozionato. Sono emozionato, perché era su un campo difficilissimo, la Fiorentina ha bisogno di punti salvezza, non penso che la Fiorentina rischierà la retrocessione della squadra troppo forte per poter lottare per la salvezza, ma noi avevamo bisogno di punti e li abbiamo ottenuti su un campo difficilissimo. È una vittoria importantissima, sono veramente felice, siccome soffro troppo durante le partite, spesso accendo la tv e poi la spengo, sul 2-1 l'ho spenta perché non avevo più il coraggio di guardarla, perché avevo paura, ma sono contentissimo per la vittoria. Se arriviamo in Champions è un grande traguardo. Invito gli interisti a non guardarci, perché noi non saremmo mai nella vita un intralcio per loro per vincere lo scudetto, loro vinceranno lo scudetto con tre giornate d'anticipo e noi non saremmo minimamente un intralcio. Noi puntiamo solo al quarto posto, non puntiamo a nulla di più del quarto posto. Il nostro unico obiettivo è l'Inter vincere lo scudetto meritatamente perché è la squadra più forte, più costante, più completa, con tre giornate d'anticipo, come nell'anno in cui la Juve era in B. Quest'anno non ha concorrenza l'Inter, lo dico amareggiato perché sono un hater dell'Inter. Io non mi piace l'Inter come squadra perché sono milanista, siamo rivali, però l'Inter lo scudetto lo merita e lo vincerà con pieno merito e ci sorpasserà, andrà a 19 e noi resteremo a 18. A parte questo è una vittoria importantissima per noi, pensiamo a casa nostra, è una vittoria importantissima per noi, continueremo ad andare avanti. Io so comunque moltissimi amici interisti, posso pure essere contento per loro se vinceranno lo scudetto, non sono contento ma per loro posso essere contento perché ho tantissimi amici interisti che sono andati a casa mia, tantissimi amici interisti che vengono al mio compagnolo, tantissimi amici interisti che frequentano la mia stessa università, posso essere contento per loro se vinceranno lo scudetto, anche se sono triste per me. Poi altra cosa che posso dire, noi puntiamo solo al quarto posto, guardate la bandiera del Milan, 2006-2007, quello era un grande Milan che vinse la Champions, altro che. Una vittoria veramente vitale, continuiamo così, adesso dopo la sosta, per fortuna abbiamo una sosta, affronteremo la Samp, poi il Parma e poi il Genua prima della Lazio. Dobbiamo cercare di fare 9 punti in quelle 3 partite, 9, 9 points, 9 points in those 3 matches, 9 punti in quelle 3 partite e poi andare a Roma con la Lazio fiduciosi per cercare di vincere anche là. Noi ce la possiamo fare, ci serve il quarto posto, dobbiamo entrare in Champions, ce la dobbiamo fare, ce la metteremo tutta, forza ragazzi, continuiamo così.